Da una recente ricerca è emerso che una macchina lavapavimenti deve avere queste caratteristiche. Efficace, perché se non pulisce la perfezione e anche pavimenti con porosità e fughe, non ha senso avere una macchina lavapavimenti. Leggera, perché deve ridurre la fatica, non aumentarla. Maneggevole, perché deve pulire dappertutto, anche negli angoli più difficili e in special modo sotto i mobili bassi. Semplice da utilizzare, non si deve perdere tempo a montare, smontare pezzi o aspettare che si scaldi l'acqua. Deve eseguire un lavoro completo, infatti dovrebbe bagnare il pavimento, effettuare uno spiegamento energico con delle robuste spazzole e dovrebbe raccogliere completamente l'acqua sporca al termine del trattamento. Versatile, una sola macchina per poter pulire tutti i tipi di pavimento, compresi terrazzi, tappeti, passatoie e mochetti. Italiana, più garanzia di qualità e la sicurezza di reperire ricambi e ottenere assistenza tecnica anche a distanza di anni. Ma esiste una lavapavimenti così? Certo che esiste! E sono già 25 anni che moltissimi la utilizzano con grande soddisfazione. E Floor Wash? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? Tutti parlano di crisi, ma alla pulizia e all'igiene non puoi rinunciare. Floor Wash ti dà garanzia di durata con costi di utilizzo ridottissimi. Ti sei mai chiesta dove gioca tuo figlio? Non si vedono, non si sentono, non pungono, ma sono con noi a migliaia. Milioni! Sono gli acari della polvere, responsabili di quasi il 50% delle patologie allergiche respiratorie. Anch'io adesso no floor wash. Con il sistema di recupero dell'acqua la va sempre con acqua pulita e le due spazzole mi garantiscono la rimozione totale dello sporco, anche dalle fughe. Quindi niente sporco, niente acari. Una perfetta igiene ambientale resta il caposaldo della battaglia contro gli acari. E questa si ottiene solo con un'accurata pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici calpestabili. A maggior ragione in presenza di animali domestici notoriamente possibili portatori di acari. E floor wash? E tu cosa aspetti ad attrezzarti per pulire meglio, in fretta e senza fatica? Basta con un spazzettone mocio, tanta fatica per un risultato scadente. Floor wash è efficace, basta una passata. Floor wash è italiana e il marchio IMQ garantisce sicurezza e rispetto delle norme CE. Basta le macchine che si intasano e non puliscono più. Floor wash funziona sempre ed è autopulente. Floor wash mantiene le sue promesse, efficace, leggera, sempre sicura e italiana.